Dopo un'altra giornata d'altra tensione tra Bruxelles e Roma con le pesanti accuse del leader del PP Weber, l'Italia mette a rischio la credibilità dell'Unione Europea a seconda del populismo, il governo tiene un successo sul fronte ai migranti. La Commissione a marzo rivedrà il sistema di ripartizione e oggi il Consiglio dei Ministri nominerà Carlo Calenda nuovo ambasciatore all'Unione. La Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile il referendum sulle trivelle, una richiesta bipartisan di nove regioni per limitare le perforazioni alla ricerca di giacimenti petroliferi. Il quesito già dichiarato ammissibile dalla Cassazione riguarda la durata delle autorizzazioni già rilasciate, altri 5 referendum sul tema sono decaduti dopo le correzioni del governo nella legge di stabilità del 2016. La Libia avvicina al governo unico formato il nuovo esecutivo che ora dovrà ricevere il via libera dai due parlamenti, quello di Tripoli e quello di Tobruk. Se arriverà l'ok, il nuovo governo sarà l'interlocutore della comunità internazionale per superare le due grandi emergenze migranti e terrorismo jihadista. Intanto dall'Isis arriva la conferma della morte del boia inglese, J.A.D. John era stato dato per morto in un attacco USA in Siria lo scorso 13 di novembre. Il cinema italiano perde un altro dei suoi grandi registi. A 84 anni se ne è andato Ettore Scola, era ricoverato da John nel Policlinico Umberto I di Roma. In oltre 50 anni di carriera aveva diretto una trentina di film, tra cui i capolavori, come ci eravamo tanto amati, una giornata particolare con il quale sferò l'Oscar e la famiglia. Le 7.30 in questo momento una buona giornata dal telegiornale che apriamo raccontandovi di quello che potrebbe essere un esito alla fine, tutto sommato positivo sicuramente per l'Italia, dello scontro fra il nostro paese e la Commissione europea. Perché se sono vere le indiscrizioni pubblicate ieri sera dal Financial Times, è vero che verrà rivisto il trattato di Dublino, quello che regola l'afflusso dei migranti. Le nuove norme verranno definite entro marzo, ma la Commissione europea si prepara a mandare in soffitta il trattato di Dublino, quello che stabilisce che coloro che giungono in Europa debbano chiedere asilo nel paese di approdo e avvarare regole che assicurino una redistribuzione immediata dei migranti attraverso un automatismo complesso per ripartire tra tutti l'onere dell'accoglienza. Si è confermata l'indiscrezione pubblicata dal Financial Times. Segnerebbe un punto in favore del governo italiano, proprio nelle ore più calde dell'aspro confronto con Bruxelles, dietro al quale sembra celarsi di fatto la vera partita, quella tra Roma e Berlino. Ieri infatti l'attacco frontale a Renzi è arrivato dal capogruppo del partito popolare al Parlamento europeo, il tedesco Manfred Weber. Avevamo previsto distanziare 3 miliardi per aiutare la Turchia nella gestione dei flussi dei migranti, ha detto Weber, ma quando vediamo che l'Italia non è disposta a farlo se non in cambio di una contropartita, questo va a svantaggio di tutta la credibilità dell'Europa e ancora quanto sta facendo Renzi mette a repentaglio l'Europa a tutto vantaggio del populismo. Un'accusa chiara dunque, l'ostruzionismo dell'Italia è volto ad ottenere qualcosa in cambio, che sia la flessibilità sui conti, la garanzia europea sui depositi tanto osteggiata dalla Germania o il via libera alla Bad Bank. Se ne facciano una ragione, l'Italia è tornata più solida e ambiziosa, aveva scritto Renzi su Facebook nella mattinata di ieri. La risposta alle parole di Weber invece è stata tutta politica con la nomina di Carlo Calenda, attuale vice ministro dello sviluppo economico, a nuovo rappresentante permanente dell'Italia a Bruxelles. Un politico con un passato da manager, non un diplomatico di carriera, per prendere il posto di Stefano Sannino, di fatto sfiduciato dal Premier Prima di Natale e che dovrà essere il famoso interlocutore la cui mancanza lamentano gli uomini del Presidente della Commissione, Juncker. La Corte Costituzionale ha detto sì alla possibilità, alla missibilità del referendum sui tempi delle concessioni, delle trivelazioni degli idrocarburi. Andremo quindi molto probabilmente a votare su questo tema, sempre che, come in realtà era già successo anche per gli altri cinque quesiti che poi sono stati bocciati, non intervenga una legge a correggere appunto le norme. La Corte Costituzionale dà ragione alle regioni che hanno proposto un referendum sulle trivelazioni in mare e ammette il quesito che riguarda la durata delle autorizzazioni alle esplorazioni. Le protagoniste di questo braccio di ferro con il governo sono nove, indipendentemente dal colore politico dei governatori. Infatti tra di loro ci sono il Presidente leghista del Veneto, Zaia, quello forzista della Liguria Toti, ma anche esponenti del PD come Emiliano, Pittella e De Luca, rispettivamente a capo di Puglia, Basilicata e Campania. La battaglia condotto dalle nuove regioni risale al 2014, quando con il decreto sblocca Italia l'esecutivo aveva trasferito dalle regioni a Roma la possibilità di dare il via libera alle perforazioni in mare, alla ricerca del petrolio, concedendo lo scorso dicembre autorizzazioni contestatissime. I quesiti referendari originariamente erano sei, tutti di serati ammissibili dall'ufficio centrale della Cassazione e mettevano in discussione la normativa in toto. Ma il governo nella legge di stabilità del 2016 ha introdotto dei correttivi utili a sterilizzarli, come quello che impedisce le perforazioni a meno di 12 miglia marine dalla costa. Solo uno, insomma, è sopravvissuto, quello che ha avuto ieri il placet della consulta. Comunque anche in caso di vittoria il referendum non determinerà lo stop alle trivelle, ma solo una limitazione dei tempi delle concessioni, non più legata all'esaurimento dei giacimenti. Le regioni, promotrici della consultazione popolare, festeggiano e parlano di una prima vittoria. Il presidente Renzi deve essere felice perché quando il popolo irrompe sulla scena della democrazia, chi è iscritto al Partito Democratico deve essere contento per definizione, commenta il governatore della Puglia, Michele Emiliano. Con le nuove regioni si schierano anche Sinistra Ecologia Libertà e il Movimento 5 Stelle. Il mondo politico è ancora molto agitato dal caso quarto, in particolare ovviamente il Movimento 5 Stelle. Ieri sera c'è stata l'audizione alla commissione antimafia del sindaco di quarto, Rosa Capuozzo, e probabilmente a breve saranno ascoltati anche i due membri del direttorio del Movimento 5 Stelle, ovvero Roberto Fico e Luigi Di Maio. O almeno questa è la richiesta che è arrivata da parte del Partito Democratico. Un buon politico non ruba e non dice bugie, lo ha detto il senatore del PD Stefano Esposito, convinto anche dai chiarimenti di Capuozzo che i vertici del Movimento 5 Stelle in realtà invece sulla faccenda appunto abbiano mentito. Non siamo sempre disponibili, ma devono dirci quali sono le motivazioni. rilanciano Fico e Di Maio, convinti invece che sul caso Capuozzo sia stato il Partito Democratico ad orchestrare una macchinazione contro il Movimento per sviare l'attenzione dalla tempesta bancaria in corso e dalla paura di perdere le amministrative, insomma simpatici scambi reciproci di accuse. Ma invece adesso noi andiamo con le immagini a vedere quello che sta succedendo in Pakistan. Avevamo anticipato prima le notizie di questo assalto che è avvenuto questa mattina alle 9 e mezzo ora locale in questa università che si trova a una quarantina di chilometri da Peshawar e dove ci sarebbero già almeno tre persone uccise. Gli assolutori si sono asserragliati all'interno di questo campus universitario dove appunto ci sono molti professori e molti studenti. In questo momento si sentono spari ed esplosioni. La situazione potrebbe essere molto molto a rischio, fra l'altro ricordiamo che poco tempo fa ci fu un attentato gravissimo in una scuola in Pakistan dove morirono 140 studenti. Invece adesso ci trasferiamo in Libia. In Libia dove finalmente è nato il governo frutto della mediazione dell'ONU ha un compito molto difficile davanti a sé anche perché nel paese c'è una vera e propria emergenza umanitaria. Quattro vicepremiere e 32 ministri sono i numeri del nuovo governo libico nato dall'accordo raggiunto a Tunisi. Un mosaico complesso che ha dovuto tenere conto del peso che hanno nel paese tribù e fazioni politiche e dal quale ha lavorato il capo dell'esecutivo designato Fayez al-Sarraji. A sorpresa è rimasto fuori il generale Khalifa Haftar che molti davano per certo al ministero della difesa. Il suo posto è stato preso comunque da un suo fedelissimo. L'esclusione di Haftar ha provocato la protesta di Ariel Katrani, Omar Aswad, i due rappresentanti di Tobruk che non hanno voluto sottoscrivere l'intesa. Importante è stato il lavoro dell'inviato delle Nazioni Unite, Martin Kobler, perché l'accordo è stato firmato proprio allo scadere delle 48 ore concesse dalle Nazioni Unite e proprio al Parlamento di Tobruk ha lanciato un appello all'ONU perché concede in tempi rapidi il suo via libera. L'intesa di Tunisi è il secondo passo sulla strada della riconciliazione. Il primo era stato quello fatto a Schirat in Marocco poco più di un mese fa. La comunità internazionale guarda con fiducia ma anche con preoccupazione al neonato governo libico chiamato a raccogliere sfide importanti e strategiche anche per l'Europa quali l'emergenza migranti e l'avanzata del terrorismo jihadista. E a proposito di Jihad, sicuramente tutti ricorderete Jihad di John, il boia dell'Isis era stato ucciso in una azione lo scorso 13 di novembre. Oggi arriva per la prima volta la missione proprio di questa azione da parte dell'Isis. In guerra ci sono avvenimenti che pesano più di mille bombe, soprattutto quando si tratta di una guerra combattuta anche sul terreno della propaganda. Per questo la missione ufficiale da parte del sedicente Stato islamico dell'uccisione di Jihad di John ha un valore simbolico che va ben oltre la cronaca. Mohamed Muasi, questo è il vero nome del cosiddetto boia dell'Isis, era infatti la rappresentazione in carne ed ossa di tutti gli incubi e le paure più profonde dell'Occidente. Perché non era solo un fanatico, militante e seguace di al-Baghdadi, era anche l'archetipo del nemico della porta accanto. Nato in Kuwait nel 1988 si era trasferito con la famiglia a Londra all'età di sei anni ed era di fatto a tutti gli effetti un suddito di sua maestà, cresciuto e istruito in Gran Bretagna con in tasca anche una laurea in informatica. Ma questo non era bastato da renderlo uno degli uomini più pericolosi e spietati dell'esercito dell'Isis. Era l'agosto del 2014 quando si presentò al mondo con il video della decapitazione del giornalista americano James Foley. Poi ci furono quelli del reporter americano Steven Sotloff, dell'operatore Abdul Rahman Kassig, dei britannici David Haynes e Anna Lennings e del giornalista giapponese Kenji Goto. Video raccapriccianti che oggi come allora evitiamo di mostrarvi ma che danno bene il senso di orrore di questa guerra. Anche per questo da allora Muasi era diventato l'obiettivo dei servizi segreti e degli attacchi delle forze americane in Siria. Lo scorso novembre la notizia che un drone americano lo aveva colpito a morte a Raqqa in Siria appunto ma nessuna conferma ufficiale fino ad oggi. Nell'ultimo numero di Dabirq, la pubblicazione in inglese del sedicente stato islamico Jihadi John viene ricordato come un eroe con un vero e proprio necrologio con tanto di foto. È la conferma ufficiale della sua morte. Torniamo in Italia per parlare della vicenda ILVA. Ieri la nomina un po' a sorpresa e giudicata da talunni assolutamente inopportuna di Marco Pucci come direttore generale. Perché inopportuna? Perché Pucci aveva lavorato alla ThyssenKrupp ed era uno dei manager che era stato condannato per l'iccennio e la morte degli operai della ThyssenKrupp. Ieri la nomina, dopo poche ore, Pucci però ha fatto marcia indietro e ha consegnato le sue dimissioni. È durata poche ore la nomina di Marco Pucci a direttore generale dell'ILVA di Taranto, giusto il tempo di far ripiombare i parenti delle vittime del rogo della ThyssenKrupp nell'incubo di quella notte, tra il 5 e il 6 dicembre del 2007. I tre commissari straordinari lo avevano scelto come esperto nel settore siderurgico per prendere il posto di Massimo Rosini, che ha lasciato l'incarico dopo un anno. La sua nomina ha scatenato però una serie di accese proteste e Pucci ha preferito dare le dimissioni. L'ex manager del gruppo tedesco è uno dei sei dirigenti condannati per l'incegno nell'acciaieria torinese dove morirono sette persone. Non ritengo di accettare l'offerta e preferisco attendere l'esito del ricorso in Cassazione, ha scritto in un comunicato Pucci perché confido che i giudici supremi sapranno dare il giusto peso alle responsabilità penali personali. L'ex manager è stato condannato nella sentenza dell'appello bis a sei anni e dieci mesi per omicidio colposo aggravato e incendio colposo. Il 13 maggio ci sarà la sentenza definitiva della Cassazione. Resterà però in ILVA dove è tornato un anno fa per collaborare come manager, spiega nel comunicato per il risanamento e il rilancio della società. A denunciare lo stridore della nomina era stato Antonio Boccuzzi, l'operaio sopravvissuto, arrogo della Tissen e ora deputato del PD. Una scelta giudicata scandalosa da tutti i parenti delle vittime. Proprio oggi la Commissione europea annuncerà ufficialmente l'apertura delle indagini per la procedura di infrazione per i presunti aiuti di Stato vietati nel settore siderurgico se non vengono utilizzati per mettere in regola allo stabilimento nel rispetto delle norme di protezione ambientale. Parliamo ancora di lavoro, meglio di coloro che il lavoro lo perderanno se impiegati pubblici verranno scoperti a timbrare il cartellino e poi andare a fare altro. La proposta arriva questa sera in Consiglio dei Ministri ma in realtà dei licenziamenti già sono in corso. I primi quattro provvedimenti di licenziamento sono stati firmati. Nei prossimi giorni ce ne saranno altri, ha annunciato il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, eletto in una lista civica sostenuta dal PD, facendo chiaramente capire che non è ancora finito e andrà avanti fino al 22 febbraio il lavoro della Commissione d'inchiesta interna, nominata dall'amministrazione comunale dopo l'inchiesta della Procura d'Imperia, che lo scorso ottobre aveva messo sotto indagine e mezzo comune, con i dipendenti beccati a fare quello che non avrebbero potuto perché in orario di lavoro, come timbrare il cartellino per i colleghi o praticare lo sport preferito, come quello ripreso mentre fa canoa. C'era chi andava a fare la spesa a pranzo, a colazione nei locali del posto o in giro a guardare le vetrine. Il danno era reale e si aggira sui 40.000 euro. Poche giorni fa il Tribunale aveva ritirato le misure restrittive, 35 arresti e 7 obblighi di firma, ma per loro era stato disposto il divieto di rientrare sul posto di lavoro per 10 mesi. I magistrati l'avevano definito un caso scellerato, il Premier Renzi aveva citato direttamente il vigile del Comune di Sanremo che timbrava in mutande per spiegare come questo comportamento stia distruggendo la credibilità della stragrande maggioranza dei dipendenti pubblici che lavorano bene. Intanto va avanti la linea dura del Governo, oggi il Consiglio dei Ministri presenterà la sua proposta per licenziare in 48 ore i dipendenti pubblici assenteisti. Oggi in media passano 102 giorni. Dunque a casa subito chi viene colpito in flagrante, furbetti del cartellino e finti malati, ma anche il dirigente rischia se non provvederà al licenziamento del lavoratore fannullone. I sindacati protestano sostenendo che le norme per licenziare già esistono. E chissà come le avrebbe raccontati magari Ettore Scola, regista grandissimo dei vizi e dei vezzi degli italiani. È morto ieri sera, 84 anni. Una serie di capolavori e un altro filo con il passato che si spezza. La morte di Ettore Scola ieri al Policlinico di Roma all'età di 84 anni, la scomparsa forse dell'ultimo esponente di quella commedia all'italiana Marchio di fabbrica di un cinema destinato a non tornare. Scola, nato a Trevico provincia di Avellina, aveva cominciato nemmeno ventenne a interessarsi di comunicazione di massa dopo aver abbandonato gli studi di giurisprudenza prima in radio, poi come sceneggiatore per i film di Totò e Alberto Sordi, sue le migliori battute dell'attore romano nell'americano a Roma. La Sala Buia, il grande, schermo una passione destinata a crescere. La via scelta da Scola per scrivere e dirigere il suo cinema comincia negli anni 60 ma diventa un marchio di fabbrica una decina di anni dopo firmando capolavori come c'eravamo, tanto amati la storia trentennale dei tre amici, Gasman, Manfredi, Satta Flores, tutti innamorati di una giovane Stefania Sandrelli. Forse il suo film migliore arriva tre anni dopo e il 1977, Sofia Loren e Marcello Mastroiani interpretano una giornata particolare, la storia dell'impossibile riscatto di un uomo e una donna nel giorno della visita a Roma di Adolf Hitler. Con il sinistro, bimbe innamorate, gli aranci comprate. Con questo film Scola sfiorò l'Oscar al quale venne candidato altre tre volte con brutti, sporchi e cattivi del 76. Ha vinto il premio della miglior regia al festival. di Canna va firmo tanti altri capolavori come dramma della gelosia alla famiglia e la terrazza. Parliamo di sport con l'Inter che batte il Napoli 2-0 a Proda in semifinale di Coppa Italia dove a questo punto affronterà la vincente tra Juventus e Lazio che sono in campo questa sera. Ma la sfida del San Paolo è stata caratterizzata dalla lite finale fra i due tecnici, Sarri e Mancini. Quest'ultimo ha addirittura accusato il collega di averlo offeso con insulti razzisti a sfondo omosessuale. Si è interrotta in Coppa Italia la striscia vincente del Napoli, ma il 2-0 con cui l'Inter ha espugnato il San Paolo volando in semifinale è apparso punizione troppo eccessiva per i padroni di casa, unici in campo a fare la partita. Solo al 66esimo infatti è giunta la prima conclusione nera azzurra con Medel che al volo ha sfiorato la traversa. Preludio al bellissimo gol del sin troppo discusso Stefan Jovetic maturato sette minuti più tardi e subito dopo l'ingresso in campo tra i padroni di casa dell'idolo Gonzalo Higuain. La reazione vehemente del Napoli è stata neutralizzata neanche a dirlo dal solito Andanovic oppostosi di ginocchio al bolide di Mertens, il quale già a Monito è stato poi espulso sin troppo severamente per una presunta simulazione in area. Poi in pieno recupero il sigillo al match apposto in contropiede da Adem Ljajic, gol che ha creato un parapiglia a bordo campo tra i due tecnici e entrambi gli espulsi e con Mancini che nel dopo partita ha accusato Sarri di averlo offeso con frasi razziste. L'Inter approda dunque in semifinale dove affronterà la vincente tra Juventus e Lazio, due squadre che stasera tornano ad affrontarsi dopo otto mesi esatti da quella finale che segnò il trionfo dei bianconeri capaci di alzare la decima Coppa Italia della loro storia. Massiccio il turnover che Massimiliano Allegri proporrà a partire dalla coppia d'attacco Morata-Zazza. Ciò nonostante per il tecnico juventino questa Coppa Italia è un trofeo da non mettere assolutamente in secondo piano. La Coppa Italia ha un valore, un valore importante come è stato per noi l'anno scorso quando l'abbiamo vinta dopo 20 anni e come deve essere quest'anno che dobbiamo cercare di raggiungere innanzitutto la semifinale, può vedere di raggiungere la finale. Sono le 7.49, noi ci fermiamo qui, adesso diamo la linea a Paolo Sottocrona per le previsioni del tempo, poi c'è Gaia Tortora come sempre con Omnibus e noi come sempre domani mattina a partire dalle 6.30 saremo qui. Voi arrivate quando volete. Grazie a tutti.